Di armi nucleari non se ne parlava più da anni e sicuramente la maggior parte dei millennials dei giorni nostri che sui banchi di scuola, nonostante gli ambiziosi programmi, forse arrivano a malapena a studiare la seconda guerra mondiale, neppure sanno cosa voglia dire detenere negli arsenali delle potenze mondiali queste bombe e testate esplosive per missili più comunemente classificate come armi di distruzione di massa. Oggi che la tensione rivolta alla guerra in Ucraina è bastata la minaccia di Putin di voler attivare il sistema sovietico di deterrenza nucleare per correre a interrogare internet al fine di capire cosa si celasse dietro a quelle parole. Ed ecco che il conflitto immediatamente assunto toni ancora più gravi e allarmanti per tutti. Ebbene ricordare che tutte le guerre sono sbagliate ma che una guerra nucleare ha un'eredità catastrofica soprattutto per le future generazioni e questo è qualcosa cui molte persone forse non pensano. In un liceo romano lo scorso dicembre sono state dedicate diverse iniziative proprio su questo argomento. È stata attivata una collaborazione con l'IPPNW, l'International Physicians for the Prevention of Nuclear War, l'associazione internazionale di medici contro le armi nucleari che nel 1985 per il suo impegno in materia ha ottenuto il Nobel per la pace. Il presidente onorario dell'IPPNW Italia, il professor Malio Giaconelli, oggi neurologo in pensione, dedica da tempo il suo impegno ad ammonire sugli esiti conseguenti agli armamenti nucleari, indicando proprio la Russia insieme a India e Pakistan le aree a rischio. In un video realizzato e del quale state vedendo queste immagini, oltre a evidenziare che il 22 gennaio dello scorso anno è entrato in vigore il trattato ONU che rende illegali le armi nucleari, vengono illustrate le conseguenze dei bombardamenti in Giappone e degli esperimenti condotti dai francesi. Nel mondo esistono 20.000 attestate nucleari, di cui il 95% si trovano in USA e Russia, il resto in Cina, Regno Unito, Francia, India, Israele, Pakistan e Nord Corea. L'uso di eun'atomica avrebbe esiti in fausti diretti e indiretti non soltanto sulla salute, ma sul clima, sulle coltivazioni in particolari di grano e riso, sull'aumento della povertà e della fame. Un ordigno nucleare provoca l'innalzamento della temperatura di 11 milioni di gradi in un'area di 3 chilometri, superando quella della superficie solare e determina un vento di 1.000 chilometri all'ora per 6 chilometri e di 300 chilometri all'ora entro 16 chilometri. 72,6 miliardi di dollari sono la spesa che gli Stati Uniti hanno investito in armamenti nucleari nel 2020, grazie anche a una rete di lobbisti che preme i suoi governi per approvare gli enormi budget proprio per le armi. Se le armi nucleari verranno impiegate da Putin, le ripercussioni saranno globali perché le conseguenze dell'esplosione andranno ben oltre i confini dei singoli paesi e l'impatto economico sarà peggiore delle più dure sanzioni possibili.